Con Raimondo Pasquale oggi prende avvio un nuovo progetto sulle politiche dell'invecchiamento nella Regione Abruzzo. Il progetto e l'incontro di oggi si svolge all'interno di una serie di iniziative a livello nazionale dove in tutte le regioni si è aperto un confronto per fare il punto sul tema invecchiamento attivo. L'incontro di oggi consentirà a Regione Abruzzo e agli operatori del terzo settore, agli ambiti distrittuali sociali che sono i nostri nodi di rete sociale in cui si affrontano in maniera più precisa queste problematiche avranno modo di confrontarsi e fare il punto della situazione. Diremo qual è la situazione di Regione Abruzzo, quali sono le aspettative, quali sono le prospettive attraverso le quali noi vogliamo dare e provare a dare risposte concrete a questo tema così importante che coinvolge la fascia più ampia della nostra comunità. E per il momento quali sono appunto le strategie messe in campo o pensate? Per quanto riguarda l'invecchiamento attivo dobbiamo dire innanzitutto che la Regione Abruzzo è stata tra le prime regioni in Italia a dotarsi di una legislazione ad hoc, la nostra infatti è una legge regionale che risale al 2016 e all'interno di questa normativa noi andiamo a prevedere tutta una serie di iniziative che sui territori vengono posti in campo dagli ambiti strutturali sociali e che il nuovo piano sociale regionale prevede tutta una serie di iniziative in cui la parte più adulta della nostra comunità prova ad organizzare delle forme diverse rispetto alla prevenzione dei temi della istituzionalizzazione. Ad esempio si lavora sul tema del co-housing, fare un lavoro che consenta alle persone di stare sempre più insieme prima magari di raggiungere quella fase in cui è necessario l'intervento di una struttura residenziale, così come si potrebbe e si possono mettere in campo progetti in cui le persone di un'età avanzata o gli cosiddetti over 65 si mettono a loro volta a disposizione della comunità per svolgere una serie di servizi sociali che possono andare a vantaggio della collettività più vasta. Il progetto sulle politiche dell'invecchiamento attivo per la Regione Bruccia è coordinato dal Ministero e di cosa tratta andando proprio nel specifico? Allora, la giornata di oggi rappresenta una tappa del progetto multilivello partecipato delle politiche dell'invecchiamento attivo, finanziato dal Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei Ministri in collaborazione con INRCA, che rappresento qui oggi, e INA, per l'Istituto Nazionale per l'Analisi e Politiche Pubbliche. Siamo al secondo triennio di progetto e questo, diciamo, per la Regione Abruzzo è il punto di partenza del secondo triennio, a cui seguiranno poi diversi workshop dove verranno definite le politiche per l'invecchiamento attivo. Caratteristica distintiva del progetto è quella di coinvolgere tutti gli stakeholder interessati dalla materia, quindi organizzazioni sindacali, organizzazioni per i circoli degli anziani, piuttosto che organizzazioni sanitarie. L'idea è quella di coordinare, di favorire la cultura del mainstreaming delle politiche dell'invecchiamento, che è un problema che, come tutti sappiamo, dato il calo demografico dell'invecchiamento della popolazione costringerà a ridisegnare le polisi nei prossimi anni.